Buonasera, sono Alessandra Pescetta, sono qui per presentare il film La Città Senzanotte, una storia d'amore molto travagliata tra una donna giapponese e un siciliano. Il filo conduttore è Lo Tsunami, che in qualche modo arriva dal Giappone all'Italia, percorrendo 10.000 km per investire Catania, che è appunto La Città Senzanotte. Ciao, sono Giovanni Calcagno, sono coproduttore, cosceneggiatore e interprete principale di questo film. Sono molto contento di essere per la quarta volta al Festival del Cinema di Frontiera. Siamo qui anche con un cortometraggio che si chiama Hlem, che parla ancora più profondamente del problema degli sbarchi. Voglio salutare tutti quanti e ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima volta in cui ci rivedremo. Grazie. Salute a tutti, grazie per averci ospitato e a presto. Grazie.